E' un percorso tortuoso ma alla fine anche virtuoso quello che sta interessando gli uffici giudiziari di Salerno che stanno pian piano traslocando dal vecchio tribunale alla nuova cittadella giudiziaria che sta così cominciando progressivamente a diventare la nuova sede operativa della giustizia salernitana. Già completati i travasi di tre sezioni si continua a lavare al ritmo costante per arrivare alla fatidica data dell'inaugurazione totale e definitiva che da cronoprogramma stilato dai tecnici del comune di Salerno dovrebbe coincidere con i festeggiamenti in onore di San Matteo. Dunque per settembre prossimo, settembre 2018. Il trasferimento come sapete è cominciato con la terza civile, è proseguito con la sezione lavoro e adesso proseguirà con il civile. Abbiamo individuato la ditta che deve effettuare i traslochi, a giorni sarà fatta la determina per l'affidamento che dovrà andare al Ministero per l'approvazione che contiamo che sopravverrà tra qualche giorno. Quindi procederemo al trasferimento del civile cominciando dalla sede di Eboli che come sapete deve essere lasciata comunque dal Tribunale entro il 2018 quindi sarà la prima che sarà trasferita. Seguiranno le sezioni civili del Tribunale con tutti gli uffici, prima civile, seconda civile, volontari a giurisdizione, ruolo generale e poi gli uffici amministrativi del Tribunale, compresa naturalmente la Presidenza. Poi nell'anno nuovo avvieremo il trasferimento del settore penale. Tempi per il completamento dell'iter? Allora il completamento dell'iter del Tribunale noi contiamo che per settembre dovrebbe essere trasferito tutto il Tribunale. A luglio il Comune ci ha detto che consegnerà anche le altre tre palazzine per cui si dovrebbe poi avviare il trasferimento degli altri uffici che rimangono ancora qui. A differenza di quanto immaginato durante il concepimento della struttura disegnata dall'architetto inglese Chipperfield l'unica vera novità riguarda la dislocazione negli stessi plessi anche di alcune sedi distaccate come ad esempio Eboli il che comporterà inevitabilmente qualche rimodulazione nell'assegnazione delle aule. Tenete conto che quando è stata progettata e sono stati divisi gli spazi le sezioni distaccate erano ancora sezioni distaccate quindi non era previsto il trasferimento della sede di Eboli e delle altre sezioni distaccate quindi diciamo che abbiamo dovuto fare una revisione con dei restringimenti degli spazi per cui alla fine ci troveremo con qualche problemino da gestire che stiamo cercando di gestire diciamo soprattutto al Tribunale perché il Tribunale è quello che ha risentito maggiormente di questa situazione. Grazie a tutti.